Allora Gallo, grande vittoria per il Savona e grande prestazione, è arrivato anche un gol su punizione che diciamo non era proprio la tua specialità della casa ma ha coronato una prova davvero maiuscola. Sì, sì, sono contento per il gol e questo è il risultato della squadra però abbiamo fatto tutti un'ottima prestazione, non abbiamo mai mollato, anche sull'1-0 non siamo stati mai in difficoltà e ce l'abbiamo messa tutto e volevamo portare a casa i tre punti. Assist Man anche oggi per il 3-0 di Ferrando, al di là poi degli singoli episodi, oggi la squadra ha dimostrato una certa maturità anche dal punto di vista mentale. Sì, sì, abbiamo fatto uno scatto mentale, dopo la partita di Rignano ci siamo chiusi tra di noi e sapevamo che potevamo dare qualcosa di più e lo stiamo dimostrando oggi in campo partita dopo partita. Tra 20 giorni il derby contro la Sanremese è una partita molto sentita ma questo Savona ha dimostrato adesso di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Per me prima del derby della Sanremese c'è la partita col Sandonato, io ragiono partita dopo partita come tutta la squadra e dobbiamo battere prima il Sandonato e poi si penserà al derby. La sosta arriva in un momento forse inopportuno visto l'ottimo rendimento del Savona ma c'è bisogno di ricaricare le pile? Ogni tanto ci vuole un po' di sosta e sono sicuro che abbiamo raggiunto la maturità giusta e non sarà questa a fermarci.